eccolo qui mario 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 ecco qua cnp salve come ogni settimana la veniamo a trovare cnp cnp si sempre quelli di cnp che cosa che dov'è dove si trova lei nel guardarobba nel guardarobba a fare cosa a fare cosa la sta guardando la roba non c'è niente c'è niente e in effetti se l'hanno andati via già tutti cnp sempre sappiamo che lei è appena tornato da dove dove è andato a belgrado a belgrado a belgrado a belgrado ho capito a belgrado in serbia non lo so se non lo sa lei che lei è stato in serbia a fare cosa a vedere la partita italia a serbia italia hanno fatto uno a uno non so se se ne è accorto che cosa hanno fatto uno a uno quelle di prima cnp ma ne va vabbè allora che ci racconta della partita serbia italia che ci racconta della partita due giorni per entrare che hanno messo un solo tornello che è successo 890 mila 890 mila persone la città lo dice tutto 890 se lo dice la città ci crediamo quanto per uscire cnp ma 890 mila spettatori si sente un bel tifoli e non serviva nemmeno prima non serviva niente ma chi è no è carla è carla è niente voleva parlare ma non va bene non va bene per me ride come una scannata vabbè noi ce ne andiamo ci rivediamo dopo